Voltare pagina. E' questo l'obiettivo dell'IVPC Delfes Avellino. La formazione di coach Giovanni Benedetto non vive un momento semplice. Anzi, la crisi si è accentuata dopo la sconfitta, la terza di fila, arrivata nel turno infrasettimanale contro Sant'Antimo. La Delfes paga un po' di errori commessi in fase di costruzione del roster, un po' gli infortuni ed il cattivo atteggiamento di qualche elemento che non si è mai integrato in questo tecnico ed ora vorrebbe andar via. Lo spogliato di bianco-verde è una bomba ad oro l'Algeria, pronta ad esplodere. Ad oggi la formazione irpina rischia di essere risucchiata alla zona rossa della classifica del girone D di Serie B in caso di un ulteriore passo falso. Domenica pomeriggio Marri e compagni faranno tappa a Teramo contro i padroni di casa della Spicchi 2K20 che in settimana sono usciti sconfitti contro Taranto con il risultato finale di 77-65. Non sono abbassate le doppie cifre di Perine, Cianci e Calabini per la squadra guidata da coach Bianchi. Il match dunque mette in palio due punti preziosi. Gli irpini sono a quota 10, Abruzzesi ad un tiro di scopo a meno 2-8. Vincere significherebbe accantonare la crisi alle spalle ma in caso di passo falso qualche scossone non è da escludere da parte della società guidata dal presidente Gennaro Canonico. Grazie. Grazie.